E adesso scriva un pensierino di senso compiuto che contenga la parola glissare Un La Parola Ma perché scrive quello che ho detto io, scusi? Un pensiero, devo scrivere un pensiero? No, no, un pensiero di sua creazione Ah, ok Glissare Glissare Verbo glissare Presente Sì, sì, glissare è un infinito, glissare Questo, ma c'ho brutti pensieri in testa Brutti pensieri in testa, quali sono questi brutti pensieri in testa? La interpreto in modo giovanile Scriva, scriva, io aspetto la frase, aspetto Glissare Ti glisso in... Ti glisso in macchina Lei glissa in macchina Siamo in tema di polinazione È andata a glissare? Sul mare Sul mare è andata a glissare lei Uno glissa dove vuoi? Sono andata a... dove glissa? Dove vuole Dove vuole? In questo caso lei ha glissato Dove vuole? Dove vuole? Questo pantalone Ha applicato le gliss Tutte brillantinate Forse vuole La nuovainya è andata a glissare le gliss Grazie a tutti.